Niente ipermercato a lune sole, ritirata ieri la pratica dalla MASPA SRL che aveva presentato il progetto di costruzione di un'area commerciale in via degli astronauti. Un disegno in cantiere dal 2018, ma oggetto di molte polemiche solo negli ultimi giorni dopo il passaggio la scorsa settimana nella Commissione Urbanistica. A dare notizia della novità il sindaco Campus durante la seduta in streaming del Consiglio Comunale, leggendo la lettera della stessa società. Un colpo di teatro che imprime l'ennesima giravolta a un programma su cui ieri mattina il primo cittadino in terza commissione aveva già messo una pietra tombale dicendosi contrario e con lui in votazione tutti gli altri, compresi i civici, favorevoli fino a qualche giorno prima. Ci sarebbe voluta, come da prassi, la definitiva Cassazione dell'Assemblea Consiliare, ammutolita invece e spiazzata o forse sollevata dal dietrofront della MASPA, che sceglie di fare un passo indietro per, probabilmente, rilanciare, riservandosi, come scrive nella comunicazione, di apportare ogni congrua modifica al PUA, in armonia con le volontà politiche espresse dall'amministrazione. Adottato intanto, sempre nella riunione di ieri, il piano particolareggiato di Via Roma, approdato al dunque dopo un lungo viaggio iniziato con la scorsa amministrazione, una linea di azione che stabilisce cosa conservare e riqualificare della zona e che ha registrato anche il contributo decisivo dell'opposizione. In particolare di Mariolina Andria, capogruppo del misto di minoranza, la cui richiesta di trasformare alcune indicazioni prescrittive del piano in indicative è stata accolta a maggioranza, col benestare perfino di campus. Anche questa è una notizia.